Ragazzi, popolo italiano e non, vi chiedo un mi piace tutti insieme per la community perché 50.000 mi piace ed è un numero pazzo Vi caricherò il video della sfida contro Mongrad da parte del mio team e anche di altre persone Il problema sapete qual è? Che Mongrad era in coppia con Benji e con Mitro E il quarto, vediamo se lo sapete, scrivetelo nei commenti, i più furbi, magari chi conosce un po' più le squad lo scriverà 50.000 like in questo video? Raga, è follia, è follia, è follia, è follia Mi raccomando ragazzoli, ho voluto caricare questo video qui anche perché è stata la rivincita Che è stata chiesta da Benji tra l'altro, vorrei far caso questa cosa, vabbè ci sta È stata una bella sfida, vi invito ad iscrivervi al canale per il Road to 500.000 iscritti E mi raccomando inserite nello shop il codice creatore Piazprovini, tutto attaccato Piazprovini Perché ogni 5.000 sostenitori vedrò un indizio su chi sarà il nuovo STR del mio team Vi avevo già detto, gli indizi sono che è uno dei player più forti in Italia Quindi insomma, non parliamo di uno a caso Ogni 5.000 persone che inseriranno il codice, un indizio Quindi basta solo inserirlo E niente ragazzoni, seguitemi su Instagram Io sono Andrea Piazza, trattino basso, buona visione 50.000 like uscirà un video fuori di testa Buona visione, boys Ma perché starta? Che c'ha lo spaz, Benji Che pisce un cazzo Benji Che pisce un cazzo Benji Dai dai ragazzi, dai Ricky Hai grambo solitamente Almeno, da quello che ho visto l'altro ieri Non è grave Bello, guarda KS Non è che hanno cambiato skin Si, devi scendere Rambo se non tra i Nike Donna santa come passano i colpi, mamma mia Raga mi hanno trombato nel box, 2 di 1 Si, devi scendere Ah, dai Eh, c'è il RR, niente, è proprio male Qui, qui, qui ha fatto male Qui ha fatto male Qui ha fatto male Dai 1v2, raid, se la claccia diventa il più forte No, che cazzo Eh, niente, non proprio Te li fai? Te li fai, quasi, bro Di poco, di poco, bro Di poco Però hanno l'SMG, ma cosa fanno con l'SMG Allora, raga, crankate Che è stata a fare? Crankate tutti Ma va Ok, cioè, io penso che Crankano tutti Crankate tutti Loro giocano con l'SMG e non ci vogliono Ah, no, io non l'ho buttata No, sono confuso adesso Ah, vabbè, Ricky Io l'ho buttata Io l'ho buttata Come no? Come non l'ha usata? C'è uno qua Sì, perché noi siamo buttati a giocare senza SMG Loro invece è giusto a me, vabbè, ci sta Lì che è un po' addormentato, poverino No, siamo già tutti collegati Sto con Bello, io L'ho fu boxato, l'ho fu boxato, l'ho fu boxato Quanto gli hai fatto? Mori! Non è possibile È morto eretico, uscise eretico, uscise eretico Non me ne è morto eretico Dai, questo ragazzi che ha attraversato il muro sta rendendo male 2-0 Loro Dai, dai 2-0 Mi l'ho visto che sono SMG 2-0, che casino Ehi, la tua puttà di nuovo Ah, regà, io vorrei dire, ma che stanno a scoprire Regà, 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 regà Regà, me dovete scoprire Dovete crancare tutti Dovete uscire e crancare come 90 all'infinito Ci proviamo Righi, ma è sinistra, full sinistra Eh, destra, scusa Coach Andre Mi sa che mi ha... Sì, uno mi ha colato Chris nella mia box, sono uscito Mi ha colato, mi ha colato Madonna, Chris, ma quanto è forte Ancora, mi lasci stare, Chris, ti ha fatto una vita A morto, a morto uno Bravo Bravo Bello Io comunque tre po' sotto, bene, ce l'ho fatto uno Bello Oh, lì Bravo, Ricky Benji Fattelo, fatti Benji Spaccatelo Sì, è che Benji 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 Fatti una camomilla Dai, ma chi è? Vabbè, Benji Però è un animale Non è una persona C'è un treno Vabbè, no Vabbè, no Vabbè, no Bello, così Benji Benji L'avevo Bicciato No, peccato Apri Spaccalo Ah, che S'ho sperata una certa C'ho sperato male 400 di legno E passano i colpi Madonna santa Passa tutto, ragazzi Un'ansia terrificante Ve lo giuro Vabbè, è normale È normale Bello Oh, ilitano sempre È sotto Benji 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 Let's go 2v1 2v1 Non può Dai, 2v1 No, vi prego Dai, ragazzi Vi prego Vi prego No Ma io la lascio Se mi gira Non ha senso Eh, ma che la lascia fa Se loro la prendono Perché la lasciata Perché mi confondo Perché mi vieno lasciata Eh, allora lasciala No No, no C'è No, vabbè L'ho lasciata per abitudine Io Fai tu Eh, vabbè Ah, uno di vita Ma mi ha girato il box Alla start Sì, fatti Sì, fatti Sì, rar E di te Mi vuole ci sia Mi ha fatto un Ah, è difficilissimo Santo Dio Sì, c'è ne ho due Mi butto su uno No, SMG è rottissima No, no Sono con bello io Ho tornato questo Un altro Ma Sì, vabbè Sì, vabbè No, Rambo ci ha provato Sì, sì Qua peso Qua è Entrano con le SMG È un dramma Mamma mia Quanti danni Cavolo Che Che treni Mi ha fatto il bug del tac Gli ho fatto il 200 Che treni Comunque c'è il CRR che mi busce lo spawn Ah, lo so Mi sa che lo fa con me Eh, distruggere la dica Sto crankando Sono due Nike, raga Vabbè Ma sono già sopra Mi ha già bruciato Mi ha distrutto Che ti devo dire Sono molto più fuori Forti qua Loro eh Sono molto più I realistic Facevano Cioè I realistic Vag era più fattibile Mamma mia In realistica Era più fattibile Qua Qua è stato una fucilata Mi hanno distrutto Mamma mia Qua No cap Realistica Realistica Era diverso Mamma mia Mamma mia Che dramma 5 a 2 di lama Qua male 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 Porca troia Che forti Sì sì no Qua sì GG allora Ragazzuoli Il video finisce qui E sì Ci hanno bastonato Abbastanza Devo dire che Se avete visto Lo scorso video Che sicuramente avete visto Perché è andato molto bene Grazie mille boys Nel fight realistic Abbiamo fatto 5 a 2 Nel fight Qui Ci hanno letteralmente Demolito Secondo me Sono molto più allenati Qua rispetto a realistic C'è da dire che Vabbè Non cambiava niente Sapete che sono molto sincero Io sono mille volte più forti Loro è normale Loro usavano le smg Le mitragliette Noi no Perché siamo abituati A non utilizzarle Ma non è che Eh le mitragliette No Avremmo perso lo stesso È ovvio Però comunque Con le smg Loro entravano nelle box E diventavano davvero Invincibili Quindi bravi 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 Davvero Appunto a 50.000 like Ragazzi Ci sarà il video Che sarà la sfida Con i player più forti del mondo Perché vi ho già spoilerato Tra i di questi nomi Il quarto Ve lo chiedo nei commenti Comunque I primi tre sono Vi ricordo Benji Mongral E Mitro C'è anche un quarto Non penso servisse Un quarto Però hanno deciso Di metterci pure il quarto Ed è uno dei video più assurdi Perché sono i migliori player Del mondo O comunque Tra i migliori player del mondo Averli sul canale è assurdo Contro Ricky Che è del mio team STR Anche contro altri player Che sono in generale Della community italiana Fa lo stesso Anche se non è data Come è andata È bella l'idea Comunque di confrontarsi Con questi mostri sacri Io sono contento Anche se abbiamo preso Un po' di legnate Lo so però Non importa Grazie mille della visione Vi mando un bacio E vi ricordo Di seguirmi Se volete Tutti i giorni Su Twitch Baila bassi Grazie 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 a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti